Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa, aspettate che vi metto il microfono messo bene a questa rassegna stampa di oggi 2 agosto. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Intanto il tema fondamentale della giornata ancora resta la nomina di FOA alla presidenza della RAI. È una nomina che non è andata perché ieri, come avete visto, non è stato votato dal centrodestra in vigilanza RAI. Dicono di aver fatto una grande vittoria, in sostanza si tratta di una grande sconfitta per il centrodestra, questo è del tutto chiaro, lo capisce anche un bambino. Ci sono vari retroscena, ve ne segnalo uno, quello più interessante di Francesco Merlo oggi sul foglio, che ci dice una cosa che forse non avevamo capito, e cioè che Salvini ieri va in ospedale da Berlusconi dove stava facendo un controllo e Salvini avrebbe convinto Berlusconi, come spesso viene con Berlusconi, di fare poi di nominare FOA, ma lì, dice Merlo, il vero contrario a FOA è Letta, è una parte del partito che non vuole assolutamente che ci sia questa condiscendenza nei confronti della linea leghista, sulla quale invece sarebbero orientati altri. Berlusconi, Salvini, salta tutto, questo è il titolo del giornale, non c'è Nazareno, dice Sallusti, tra il PD e Forza Italia, perché Salvini ieri ha detto, beh questo è chiaramente il Nazareno tra il PD e Forza Italia perché entrambi hanno votato contro FOA, beh secondo me Sallusti ha buon viso a cattivo gioco, cioè il cattivo gioco è quello di aver fatto fuori FOA, ma il buon viso è quello di dire, ragazzi se qua c'è un inciucio, certo non è quello tra Forza Italia e Renzi, ma è quello evidentissimo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, tra Salvini e Di Maio che in effetti stanno governando insieme, mi sembra il minimo che si possa dire. Un altro colpo di scena che qualche altro giornale, mi sembra Repubblica, mette in prima pagina su questa vicenda è che Di Maio non vuole andare a Laguerre come Laguerre, non vuole morire sulla testa di FOA e dice FOA non è l'ultima scelta, anzi ce ne sono tante altre che si possono trovare per poter trovare un presidente della RAI, quindi dovrebbe dimettersi, al posto suo dovrebbero nominare il Ministero del Tesoro un uomo col quale c'è una mandoggiore, condivisione. Ferrara è brutale nei confronti di FOA, cioè gli sta proprio antipatico questo FOA, Giuliano Ferrara oggi sul foglio non lo conosce, devo dire che se Ferrara fra qualche anno rileggesse i suoi pezzi nel passato quando era assistente di Berlusconi e le character assassination che facevano gli altri giornali nei confronti dei nuovi uomini di Berlusconi, beh insomma se leggesse quei pezzi e leggesse quello che ha fatto oggi su FOA forse ritroverebbe lo stesso stile, nonostante oggi Ferrara sia certamente non paragonabile Mauro e Giannino agli scalfari di dieci anni fa contro Berlusconi, però insomma utilizza lo stesso stile dicendo che FOA non può essere definito un giornalista molto più che decente, cioè non è neanche più che decente FOA, cioè un insulto come sa fare Ferrara in maniera colta però sanguinoso nei confronti di FOA e dice beh potrete scegliere qualcun altro, potrete scegliere Buttafuoco, beh questo è fuori di dubbio, Buttafuoco sarebbe un grandissimo presidente della RAI, amico mio sarebbe bravissimo, Veneziani sarebbe un altro grande presidente, Giulio un altro dice nell'ammazzetto della destra che potrebbe, di fatti è candidato a fare qualche cosa, beh poi dopo cita Padellaro e Battista, beh su quelli insomma c'ho qualche dubbio come presidenti della RAI, vabbè detto questo sono le argomentazioni di Ferrara e sulla questione di FOA come vi è chiaro si è consumato una rottura del centro-destra che è difficilmente secondo me ricomponibile, se c'è in nuce una certa differenza nel centro-destra anche sulla questione delle Olimpiadi dove Malagò, il presidente del CONI, decine in buona sostanza di far fare le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano, Torino e a Cortina d'Appezzo e secondo il Corriere Veneto anche ad altri paesotti del Veneto, allora mettiamoci d'accordo qua, si possono fare le Olimpiadi diffuse e ancora si possono fare le Olimpiadi in una città che non ha le montagne come Milano oppure si possono fare a Torino che è una città che non voleva le Olimpiadi fino a poco tempo fa o si possono fare a Cortina dove si sono fatte anche nel passato però evidentemente forse oggi devono essere un po' più ampli gli spazi per le Olimpiadi, io non sono un grande esperto di Olimpiadi ma quello che riesco a capire è che Malagò paraculo da grandissimo presidente della Niene, circolo romano in cui circolano poi alla fine tutti, cioè il marziano a Roma non c'è mai, cosa ha fatto? Ha messo tutti dentro, Milano con il PD, il Veneto con Zaia e con la Lega e Torino con il Movimento 5 Stelle, questo è il cazzo di nuovo manuale Malagò del nuovo potere del 2010, tutti dentro un pezzettino di Olimpiadi al vecchio PD Renziano, ma anzi non è così Renziano, un pochino di Lega e una spruzzata di Movimento 5 Stelle, si possono fare le cose secondo voi bene così? Io non lo so, i giornali comunque su questo si dividono perché devo dire che Giannino della Fattina con un pezzo molto convincente oggi sul giornale dice che Milano l'avrebbe fatto alla grande come ha sempre dimostrato perché Sala se c'è una cosa che ha dimostrato di saper fare è l'Expo, dall'altra però Sala si lamenta di questa condivisione con gli altri e lo pizzica mi sembra la verità che è il giornale ufficiale del governo che dice a Piagnuco la Sala perché avrebbe avuto 300 milioni in più se avesse fatto le Olimpiadi da solo, beh cosa che io considero abbastanza normale, uno per la propria città cerca di portare le maggiori risorse possibili e anche su questa farsa ovviamente ognuno la pensa a modo suo, per esempio la stampa dice che pure l'Appendino sarebbe arrabbiata perché non prende le Olimpiadi del 2026, io la trovo un po' ci sta ma veramente il manuale Malagò è una cosa incredibile, sulla TAV vi segnalo due cose interessanti, un pezzo di Italia oggi in cui si ricorda quando anche l'autosole veniva considerata inutile, c'è una bellissima lettera dell'unità di quegli anni del 1964 in cui c'è scrivere che l'autosole spremeva l'economia nazionale in direzione di una motorizzazione individuale forzata, dimenticando che mancano le strade nazionali e quelle nelle città, straordinario, cioè nel 1964 i comunisti dicevano le stesse cose dei grillozzi oggi sulla TAV, identiche, invece di pensare alla TAV, pensate alle ferrovie locali, tutto vero, tutto giusto, sacrosanto, ma esattamente gli stessi argomenti, oggi basta leggere sul fatto invece Meletti in cui ci spiega ecco tutti i dati ufficiali sull'inutilità e i costi occulti della TAV, questo è quello che pensa invece il fatto che è il giornale grillozzo non quanto la verità, perché la verità è il giornale del governo, mentre invece il fatto è il giornale soltanto di una parte del governo, cioè del Movimento 5 Stelle, esce dal cartere e ferisce il carabiniere, ne ho parlato in un video che potete vedere sul sito nicolaporro.it, questo bisognerebbe cacciarlo dall'Italia, punto e basta, non è che c'è molto da discutere, mi piace molto oggi l'apertura del Daily Mail, come sapete io sono un appassionato dei giornali popolari inglesi in cui dice che noi siamo addicted, siamo drogati, siamo dipendenti dai telefonini in maniera ormai esasperata, ogni 12 minuti li dobbiamo compulsare, due persone su 5 li compulsano ogni 5 minuti durante l'intera giornata, le donne superano gli uomini nell'utilizzo dei cellulari e tanti altri numeri riguardo agli inglesi matti di telefonia cellulare. Vi segnalo infine due questioni economiche fondamentali, la prima è un'intervista fatta da Osvaldo De Paolini al Presidente dell'Amministratore Delegato e Consigliere Delegato di Banca Intesa, che oggi si chiama Intesa San Paolo, che si chiama Carlo Messina, un'intervista tutta da leggere, ma soprattutto con un senso, cioè il senso che esiste un banchiere italiano, il capo dell'Unicredito in francese, il capo del generale in francese, le banche straniere la fanno da grandi player nel mercato dei titoli di Stato e del Merger and Acquisition italiano, io non ho nessuna deriva sovranista, come ben sapete sono un liberista e penso che i mercati e le imprese debbono essere liberi indipendentemente dalle loro ragioni e statuti sociali, ma il punto fondamentale, quando leggete Messina capite cosa vuol dire avere una banca italiana, una banca di sistema italiana, qualcuno che ragiona per l'Italia, per lo sviluppo di questo paese, insomma in un mondo che non si deve chiudere e si deve sempre più aprire, devo dire francamente che l'intervista di Messina è molto davanti e interessante e ve la consiglio vivamente, investimenti al sud e diamo un piano all'Italia, sono frasi generiche in bocca a un politico ma non nei piani di Messina, che peraltro dice una cosa molto interessante perché detta da lui è molto interessante, dice trovo giusto che gli investimenti vengano scorporati dal deficit, non mi sembra che Messina sia un pericoloso sovranista, tutt'altro, dice che comunque paghiamo e stiamo pagando ovviamente uno spread superiore rispetto al passato, molto grave quello che titola oggi il sole 24 ore con un pezzo di Marco Nado, cioè il tentativo di questo governo di far fuori il presidente della Consob, che a me non sta affatto simpatico, per il semplice motivo che sarebbe stato molto meglio che fosse rimasto nel suo luogo importante di elezione che è la direzione finanziaria a Bruxelles, già abbiamo pochi italiani in Europa che contano, li tagliamo dall'Europa per portarli a fare un mestiere che non conoscono, presidenti della Consob, ma una volta che Gentiloni rinomina presidente della Consob, porca puttana, l'idea che un governo possa togliere i presidenti di un'autorità di controllo importante come la Consob è una cosa micidiale, micidiale, nessuno si sarebbe azzardato a fare una cosa di questo tipo, lo stanno bombardando i grillozzi perché? Perché hanno il loro uomo Minenna all'interno della Consob, ex CGL, uomo che ha lavorato con la Raggi, uomo che voleva fare il direttore generale della Consob e non c'è riuscito e che sta bombardando, via interrogazione, fastidi, col solito stilo Minenna sta bombardando il presidente nominato dalla Consob, vedete che ci troveremo Minenna, presidente della Consob o con qualche importante incarico. Bene, direi che per oggi è tutto, se vi è piaciuta questa zuppa fatta con un sistema un po' diverso rispetto al solito, spero che l'audio oggi sia migliore, anche il video potrebbe essere in alta quidità, direi che potete condividerla, anzi fatelo, mi fate una cortesia, noi ci vediamo come sempre con la zuppa di domani e se volete avere approfondimenti sulla storia del giovane, del Burkina Faso che ha ferito prima un conducente di un autobus e poi un carabiniere, lo trovate sul sito ricolaporro.it con le mie reazioni a caldo e sulla doppiopesismo dell'Italia che finge di essere, come possiamo dire, razzista quando non lo è. Ciao!